Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Witchcry per andare a scoprire tutti quanti i segreti nascosti Oggi parleremo di Witchcry capitolo 3, si lo so, è da poco uscito il secondo capitolo Però come abbiamo visto nel finale di questo gioco, a quanto pare la storia continuerà Quindi andiamo a scoprire insieme come sarà il prossimo capitolo, cosa potremo trovare Ma prima di partire lasciate un commento su tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva E ci tenevo a ringraziare, ben detto Dieghi, per aver fatto la donazione al canale Ti ringrazierò tanto per il grande supporto, ma adesso direi di partire, cominciamo, andiamo qua in partita Ok, allora, direi di farlo in fantasma, visto che devo mettermi pure qua a parlare, a chiacchierare Quindi non è che posso mettermi qua a scappare dalle streghe Ed eccoci qua, nel secondo capitolo dobbiamo recuperare il famoso Cappuccio Rosso Infatti, questo capitolo 2 è ispirato alla storia di Cappuccetto Rosso E a quanto pare all'interno di questo mondo dove noi ci troviamo Ci sono dei semi che noi dobbiamo recuperare Che ci permetteranno appunto di scappare via dal mondo dove siamo Nel primo capitolo il seme che ci serviva era appunto la bacchetta magica Che infatti abbiamo recuperato nel secondo capitolo Il seme e il Cappuccio Rosso Chissà se lo utilizzeremo nel capitolo 3 oppure no Ma intanto andiamo qua in partita Ah, tra l'altro la bambina ci ha pure fatto capire che all'interno di questa parte Tecnicamente doveva esserci un lupo cattivo Che però noi non abbiamo incontrato Forse lo aggiungeranno in un prossimo aggiornamento Oppure no Va bene Intanto da notare qua, guardate l'icona del bambino La faccia Cioè sembra che gli si sia allungata proprio la faccia in avanti Bellissimo, come l'hanno fatta Allora, andiamo a recuperare per prima cosa E non so come si chiama, già aspettate Ah sì, le cesoie Che ci servono per tagliare l'erba I ramoscelli, va Allora, le cesoie stanno di qua Ma prima dobbiamo trasformare questo serpente in una corda A posto Prendi qua E adesso andiamo a tagliare gli alberelli I ramoscelli Solo che dov'è che stanno adesso questi ramoscelli Devo un po' ambientarmi bene con la mappa Come ho detto pure nei video scorsi Non è che la conosco tanto bene Devo impararmela ancora a memoria Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se volete vedere altri video teorie di Witchcry Perché qua tecnicamente di segreti nascosti ce ne sono Quindi volendo Non è che posso fare Vabbè, non verrebbe fuori una serie lunga Come abbiamo fatto ad esempio con Ice Cream, Mr. Meat, eccetera Però qualcosina da scoprire Si potrebbe anche fare, va E tagliamo qua Perfetto Lasciamo qui No, no, no Prendere la bacchetta È che mi hanno messo il pulsante per droppare Proprio nel posto dove c'è la bacchetta E quindi mi confondo sempre Ok, raccogliamo qua questa bella leva Che in realtà sarebbe la spranga Ok, apriamo la porta E adesso possiamo aprire la porta del bagno pubblico esterno Cioè questi qua hanno la casa così fatta in modo strano Però il bagno ce l'hanno fuori Ma dai La casa della nonna di Cappuccetto Rosso Ma che roba Però effettivamente potevano farlo un po' più grande Hanno fatto un cortile enorme Però la casa ha due stanzette Dai Ok Prendiamo la pala E possiamo metterci a scavare Così entriamo dentro il fianile Va Andiamo a fare tutto quello che ci serve Ciao strega Come sta? Tutto bene? Ah Tra l'altro Buona Pasqua a tutti Auguri di buona Pasqua Eh sì Perché oggi è il giorno di Pasqua Quindi tecnicamente Ma infatti Vi dico una cosa Io in realtà oggi volevo fare un video Dedicato appunto alla Pasqua Non lo speciale Pasqua Però non è uscito niente a tema di Pasqua Cioè Non potevo fare niente Sì vabbè Avrei potuto fare il classico video Quello dove Faccio gli auguri di buon anno Buona Pasqua a tutti i personaggi Però sono sempre gli stessi video Tra l'altro Poi di personaggi nuovi Non se ne sono stati aggiunti Quindi come personaggio Chi ci sarebbe stato? Rod Poppy Playtime Con Cutnap E la strega E basta Cioè Veniva pure un video un po' corto Ecco Cioè magari qua posso farci qualche bella teoria Ok Adesso dobbiamo recuperare Cos'è già che dovevo prendere? Forse qui sopra Sì Dobbiamo Innanzitutto Eh Possiamo entrare effettivamente dal piano superiore Sì Facciamo una scorciatoia Va Utilizzeremo questo Per entrare dentro la casa della strega Però Aspettate No Io devo fare pure un'altra cosa ancora Devo recuperare il secchiello Quindi niente Va Lasciamo perdere Andiamo direttamente da qua Prendiamo la chiave Sì volevo fare un esperimento Ma mi sa che non possiamo farlo Anche perché poi Sarebbe un problema uscirne Quindi saliamo di sopra Recuperiamo la maniglia del pozzo Che dovrebbe trovarsi qua dentro Ed eccolo qua Intanto qui c'è la mia faccia C'è il mio logo Vecchio logo come easter egg Scendiamo di sotto E andiamo di qua Dov'è che si trova il pozzo Pozzo dove sei? Che qua Non mi ricordo dove stanno le cose Dove si trova il pozzo? Ma dai E niente Senza pozzo non posso fare niente Devo per forza usare quel menu indizi Sennò qua Trovare le cose Mi ci perdo direttamente Dove mi sta facendo andare? Ma tutto sto percorso Ma dai Ah ecco L'ho trovato A posto Meno male E se non usavo il menu indizi Non l'avrei mai trovato Su su dai Gira 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 Veloce 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 Che dovevi recuperare il secchio Che si trova qua dentro Vai Ma io posso buttarmi nel pozzo No non posso Sarebbe bello magari Che qualcuno facesse una bella mod Che ci permette ad esempio Di uscire fuori dalla mappa Per vedere cosa c'è di fuori Perché tecnicamente Qua è tutto bloccato Non possiamo uscire fuori E però mi sarebbe piaciuto Appunto usare questo Questa mod Con il no clip Per esplorare le zone nascoste E vabbè dai pazienza Andiamo di qua va Dobbiamo sollevare sta cosa Quindi dobbiamo mettere il secchio In modo da poter accedere lì dentro Metti qua dentro Ok Prendiamo questo sasso Su dai personaggio Cammina Mamma mia sta lentezza ogni volta E qui si sta alzando Dobbiamo mettere un altro sasso Almeno due Altrimenti sto coso Non si alzerà mai Ok Andiamo Cammina personaggio Veloce 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 Mamma mia Tutta sta lentezza Per una pietra E però è che comunque È una pietra bella grande Però dai Su E intanto Finalmente Possiamo andare qui sotto E scendiamo Perché qua C'è il famoso Cappuccio rosso È proprio lì dentro Guardatelo Il famoso seme Uno dei semi che dobbiamo recuperare Quindi nel capitolo 1 Il seme Era questa bacchetta magica Nel capitolo 2 Invece il seme È quel cappuccio lì Nel capitolo 3 Incontreremo un vecchio falegname Con suo figlio Ecco E quindi mi sa che Quel vecchio falegname Con il figlio Non sarà altro che Geppetto e Pinocchio Quindi Witchcry Capitolo 3 Molto probabilmente Sarà ispirato Alla favola di Pinocchio Chissà come sarà Quindi già mi immagino Che troveremo Questa casa Del falegname Dove dovremo fare Degli enigmi Ma la strega Sarà sempre lì Perché lei Non smetterà Di inseguirci Lei verrà Fino in fondo Fino al capo al mondo Pur di prenderci Però devo capire Perché sta strega Cioè va bene Che lei ci vuole mangiare Ma una volta Che noi siamo scappati Perché così Estinata a prenderci Poi tra l'altro Che fero hanno fatto Cappuccetto rosso E la nonna Non ci sono Sono spariti La bambina Gretel Ci ha fatto capire Appunto che Avremmo dovuto incontrare Una bambina Con la sua nonnetta Con anche il lupo Ma ne sono De tre Abbiamo trovato Tutti spariti Nel nulla Qui non c'è neanche Qui una traccia Di nonne Di cappuccetti rossi Di bambine Di niente Di nessuno Ma dai A meno che Non siano tutti quanti Stati sbranati dal nonno Eh sì Che dal nonno Perché abbiamo messo Gregni e grampa Qua dentro No volevo dire Dal lupo cattivo E in contemporanea Magari quel lupo cattivo Ha fatto una brutta fine Eh perché qua non c'è niente Qui c'è la La nonna Disegnata Poi vabbè Completando il quadro Dovrebbe comparire pure Cappuccetto rosso E il lupo Ma gli altri non ci sono Sono spariti Tra l'altro Vorrei pure dire un'altra cosa La faccia di Cappuccetto rosso Sembra molto inquietante Molto arrabbiata Come se avesse paura Di qualcosa Del lupo cattivo Che li vuole mangiare Vabbè dai Facciamo una cosa Magari in un prossimo video Proveremo a scoprire insieme Che fine hanno fatto appunto Cappuccetto rosso La nonna e il lupo E del perché Non li abbiamo trovate E quindi niente Tenetevi pronti Perché su Witchcry Capitolo 3 Incontreremo O comunque Troveremo qualcosa Che riguarda Geppetto e Pinocchio In versione horror Chissà come saranno Ma soprattutto Chissà se saranno Presenti All'interno del gioco Mi viene da pensare Che magari come oggetto segreto Da recuperare In questo caso Dovremmo prendere Tipo non lo so Un qualcosa di legno Forse proprio un burattino Dovremmo trovare E quello potrebbe diventare Uno dei semi Però Mi sa che forse Dobbiamo proprio tipo Creare un qualcosa Perché noi abbiamo preso La bacchetta magica Poi abbiamo preso Il cappuccio E se noi dovessimo Prendere tipo un burattino Magari noi dobbiamo mettere Quel cappuccio Addosso a quel burattino E dargli in mano La bacchetta In questo modo Magari si attiva E forse potrebbe diventare Il vero Pinocchio Che potrebbe aiutarci A scappare via Non lo so Sono tutte teorie Non è anche escluso Il fatto che possa comparire La famosa Fata Turchina Che in questo caso Però diventerebbe Cattiva Potrebbe essere un nemico Quindi vabbè Dai io direi Che magari per il momento Possiamo fermarci qua Con il video Fatemi sapere Cosa ne pensate Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Vi racconta Spalliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Nel prossimo video E come sempre vi auguro Buon giornato Buon giornato Buon giornato Ciao a tutti Buon panino a tutti Buon giornato